Chiudo, al momento che sono tre, chiudo e faccio la stessa cosa, vado al centro e ce l'ho. Facciamo la pagnotta una volta, questo lavoro lo faccio, non mi so, è venuto un po' male, lo faccio due volte, chiudo sempre dentro, lo faccio con l'integrale e sul banco poi me lo sistemo. Lo faccio con l'integrale, questo ha tirato un po' troppo. Allora, la pagnotta è così. Allora, uno, due e poi entro, entro ancora. Allora, quando sento che comincio a tirare, la giro sul banco, prima della parte, poi dall'alza e la chiudo. Ok? Stessa cosa, uno stampo, metto dentro, spolvero, parte sotto diventa la parte sopra, ok, chiudo, lievita, lo giro in teglia e lo inforno. Allora.